Il gruppo Cambiamo cresce nel Consiglio Comunale dell'Aquila e a Daniele D'Angelo, che è anche coordinatore provinciale, si aggiunge il consigliere Marcello Dundè, ex Forza Italia. Un progetto di centro, perché non ci può essere il centrodestra senza centro, hanno detto i presenti. A benedire questo ingresso il senatore Gaetano Quagliariello, responsabile nazionale antilocali, la linea politica è chiara. Non una campagna acquisti, hanno detto, anche se nelle prossime settimane ci saranno altre iniziative e probabilmente nuove adesioni, ma un progetto che parla di un partito del fare. Ci sono tanti temi, cari a Cambiamo, come l'area interna e la montagna, dei progetti già si sono realizzati. Si sta ricostituendo anche un gruppo femminile di giovani per portare avanti i progetti e iniziative per realizzare anche una politica esterna ai palazzi, ma sempre dedita al territorio. Cambiamo ha un valore quasi simbolico nella città dell'Aquila, perché sta a significare proprio la resilienza di un'area politica. E quindi riprende la resilienza di questa città. È un'area politica che non vuole cedere, che si vuole radicare sul territorio. Come voi sapete io mi sono presentato con idea, poi è cresciuta ed è diventata Cambiamo e nei prossimi giorni cresceremo insieme ancora. Il lavoro che stanno svolgendo lui e il consigliere D'Angelo sul territorio mi ha spinto ad aderire a quelli che sono i loro progetti, i loro programmi, perché è importante anche perché quando effettivamente sono stato eletto era per motivi di lavorare sul territorio. Quindi per me è fondamentale questo. Da sempre mi sono speso senza pensare ad interessi né personali né a poltrone, ma soltanto al territorio aquilano, soprattutto alla montagna aquilana, come ben sapete. L'ingresso del consigliere D'Undè non può che farmi piacere, perché è stata una scelta maturata in base a dei progetti presentati nel corso di questi quattro anni di consigliatura. Facciamo una politica per questo territorio, ne siamo convinti di questo, siamo convinti che non possiamo che crescere, che il nostro progetto a livello nazionale, lo ha detto bene Gaetano, cioè da idea Cambiamo, Coraggio Italia e non lo so dove, noi vogliamo ricostruire questo centro. Gli equilibri maggioranza non cambieranno, un atteggiamento leale ma anche un pungolo critico in consiglio quando sarà necessario hanno detto. Grazie. Grazie.